ciao ragazzi buongiorno avevamo il pop corn o pop pop corn dolce party games c'è anche la versione pizze pazze allora è un bel gioco in scatola da tavolo da giocare insieme bisogna avere più di cinque anni si può giocare non c'ho scritto in quanti vabbè apriamolo io qua vedo ah no c'è scritto da due a quattro giocatori come sempre perfetto allora che cosa bisogna fare chiama nei cestini colorati ognuno sceglie un colore io scelgo il rossa io il viola ok c'è niente però c'è qualcosa altro le istruzioni i pop corn giganti allora chi riesce a mettere tutti pop corn nel nei propri canestri quindi del colore che ha scelto prima degli altri ha vinto no ma è troppo difficile così ecco qua tutto pronto allora io ho scelto il viola pietro ha scelto il rosso simon ha scelto il verde dobbiamo fare canestro io nel viola lui nel rosso lui nel verde con i pop corn spingendo qua iniziamo 1 2 3 eh e via ciao ho volevo solo farmi notare che sto vincendo siiii che vale? no non ho vinto mmm guarda che sei proprio un bambino dispettoso allora io ho vinto intanto e rifacciamo sta buono no l'ho sganciata con i bambini e che spingevano troppo Pietro andate in accalmata cocco via uno due tre via 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 non vale? no non so mi è caduto guarda che si è proprio sfigato mi è caduto davvero ciao a tutti ciao